benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi che tutti quanti state aspettando dove commenteremo la grandissima vittoria del napoli contro il lecce dove praticamente il napoli con questa vittoria continua a mantenere il primo posto e si allontana sempre di più dalle altre squadre anche se dobbiamo aspettare tra oggi e domani ma con la vittoria di oggi il napoli si conferma come la squadra più forte più solida della serie a praticamente benvenuti in questo nuovo video analizziamo nel dettaglio praticamente la partita tra il napoli e lecce terminata con la vittoria del napoli è stata una sfida intensa dove il napoli comunque ha sempre dominato costruendo numerose occasioni mostrando un antonio conte che sa veramente gestire la squadra partiamo ad analizzare il primo tempo il primo tempo il napoli è partito a ritmi super elevati cercando fin dai primi minuti di aprire la difesa del lecce sugli esterni e neres ha avuto l'occasione già dal ventiquattresimo una super occasione dove si è conclusa con una parata del portiere falcone dove ha imparato entrambe ha fatto più di due azioni neres bellissime dove falcone secondo me il migliore in campo del lecce è riuscito è riuscito diciamo a salvare almeno per quei momenti del primo tempo la squadra il momento più emozionante però è stato quello del primo tempo con di lorenzo dove ha trovato la rete su un tiro di olivera ma il var ha annullato per fuorigioco spegnendo momentaneamente momentaneamente l'entusiasmo della squadra nonostante questo la squadra di antonio conte ha continuato a costruire azioni pericolose sul finale del primo tempo il lecce ha tentato di rispondere con una doppia occasione sul calcio d'angolo dove è stata comunque vicina sia al gol ma ovviamente non non c'è stato nulla da fare nulla da fare nel secondo tempo ragazzi nella ripresa in napoli ha aumentato ancora di più ulteriormente il ritmo seguendo chiaramente le direttive di antonio conte al 55esimo lukaku ha avuto una grandissima occasione su sponda di buongiorno ma il suo tiro da sottomisura è finito sopra la traversa e l'attaccante belga è stato protagonista di numerose azioni lavorando bene per la squadra in generale al 67esimo ragazzi è stato incredibile perché c'è stata l'esploit del lecce dove è stata vicinissima al gol ma niente praticamente la la difesa del napoli proprio ha resistito bene e ha respinto quelle poche ma pericolose occasioni del lecce ma il capolavoro arriva al 73esimo ragazzi al 73esimo minuto del secondo tempo il napoli ha finalmente trovato il gol del vantaggio grazie al buon di lorenzo l'azione è partita da un colpo di testa di tominai che ha respinto dal portiere falcone di lorenzo è stato rapido e ha insaccato con un tiro e ha sfondato la porta che la prende distrutta potentissimo il tiro che ha portato il napoli al vantaggio 1 a 0 ragazzi dopo il gol napoli ha continuato a dominare e sempre poi lukako ha continuato dopo il 76esimo dove era vicinissimo al raddoppio dove però falcone è stato bravissimo che ha respinto il tiro c'è stato poi all 82 83esimo il vicinissimo raddoppio di di lorenzo dove il portiere del lecce è stato sempre bravissimo falcone ed è riuscito ad evitare il 2 a 0 una partita ragazzi veramente spettacolare e questa vittoria dimostra ancora una volta il valore della gestione di antonio conte con questa vittoria il napoli si porta ancora una volta prima in classifica mantiene il posto anzi se stasera l'intero e la juve dovessero se stasera e domani l'intero e la juve dovessero perdere o pareggiare il napoli si allontanerà ancora di più e andrà sempre più in alto e sarà sempre più vicino allo scudetto ragazzi un napoli veramente che è gestito in maniera incredibile in maniera magistrale dal mitico antonio conte ragazzi vedete antonio conte lui sì che valorizza le squadre è un allenatore che riesce proprio ad entrare dentro l'animo dei giocatori che veramente riesce a tirare fuori il meglio di sé e lo sta dimostrando ragazzi lo scudetto ragazzi non è un sogno secondo me per il napoli ma potrebbe essere una vera e propria realtà sì ve lo dico io ragazzi lo dico io secondo me il napoli vincerà lo scudetto quest'anno ve lo dico io ragazzi ve lo dico io perché come sta gestendo antonio conte la squadra non lo sta facendo nessun altro allenatore e anche perché comunque il napoli non ha coppe non ha niente per niente non ha champions europa league eccetera quindi ha praticamente tutto il campionato con cui concentrarsi mentre sicuramente l'inter e la juve godono dello svantaggio di avere anche altre 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 partite al di fuori del campionato di serie a copp champions ed europa league eccetera quindi sotto questo punto di vista in napoli è molto più avvantaggiato ma comunque al di là dei vantaggi si vede che antonio conte sta tirando il meglio di se meglio di se del napoli ragazzi è veramente un grandissimo allenatore fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questo napoli di antonio conte iscrivetevi al canale commentate commentate il video e come condividetelo su tutti i social e continuate ragazzi a sostenere anche il mio canale in modo che io possa portarvi per voi sempre informazioni serie attendibili le migliori in assoluto su youtube ragazzi va bene con questo è tutto vi mando un grandissimo abbraccio ciao a tutti